Con la presentazione della lista Galletta Sindaco parte a tutti gli effetti questa avventura, da dove nasce la necessità o il bisogno di scendere in campo? Intanto diciamo che questo è un progetto che parte da lontano, sono almeno due anni che io sto ragionando su questa candidatura. Non mi piace la discesa in campo in realtà perché io sono sempre stata presente sulla città con tanti progetti, penso che ormai li conosciate un po' tutti quanti. In realtà questo è un impegno che da civico si è trasformato in politico proprio perché c'è un'esigenza di impegno a 360 gradi e anche di volontà di incidere su questa città perché io per anni, insomma per 30 anni ho fatto sempre tante cose per la città a livello soprattutto culturale ma anche ambientale, però mi sono resa conto che senza la forza che ti dà lo Stato, la legge, la politica, è impossibile cambiare le cose. Quindi io sono partita veramente sola, però negli ultimi due mesi sono riuscita a unire intorno a me, come le chiamo io, 24 perle della nostra città che sono le persone della lista Galletta Sindaco, che è la lista civica che sostiene la mia candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative del Comune di Civitavecchia e tutta una serie anche di altri, diciamo così, cittadini importanti e anche loro soprattutto che sono portatori di idee, perché quello che noi abbiamo fatto è un programma elettorale partecipato. La cultura c'è sicuramente tra le idee da portare a Palazzo del Pincio, quali sono altri temi da portare come parte di questo progetto? Sì, allora la cultura è molto importante. Io faccio riferimento in particolare a, anche visto che sono una donna di cultura, quindi insomma però sono convinta che la cultura possa arrivare a tutti se c'è un mezzo in grado di far fruire la cultura, come però mezzo di crescita della nostra comunità. Uno dei miei simboli, un po' un mito, che in realtà è stata una persona reale, è Federico II, stupormondi. Ecco, a me piacerebbe che la nostra lista fosse lo stupor Civitavecchia, cioè Federico II è stato in grado di unire tanti popoli, tante città, tante comunità, grazie alla cultura e all'arte. E io sono convinta che Civitavecchia possa avere anche questa opportunità. Noi, ovviamente la cultura è un mezzo, ma non abbiamo assolutamente sottovalutato, anzi in prima linea il discorso del lavoro, del rispetto dell'ambiente e quindi della salute dei cittadini, che sono le prime cose. Il decoro, la pulizia, l'attenzione ai fragili in questa città, ai disabili, ai bambini, agli anziani e agli animali. Quindi ecco, insomma, questo è la nostra mission.